La mia partita del cuore è sicuramente quella dove sono riuscito a segnare il gol della vittoria all'ultimo secondo. Eravamo sullo 0-0, però la squadra avversaria stava facendo un sacco di azioni offensive. Ricordo che c'era molta tensione da entrambe le parti. Un avversario era pronto per segnare e allora lì mi sono detto lo devo fermare. Con le ultime forze rimaste sono riuscito a intercettarlo e da lì sono ripartito. Per quella che è l'azione più bella della mia vita. Sono partito, ho iniziato a dribblare uno o due avversari, mi sono liberato dell'ultimo avversario e lì poi ho pensato tiro. Una volta tirata la palla ho visto la palla entrare e è stata la gioia più grande della mia vita. Una gioia veramente inspiegabile. La mia vita è stata la gioia più grande della mia vita.